40 anni al servizio dello Stato, dal terrorismo politico al terrorismo religioso, cosa è cambiato in tutto questo tempo? È cambiato un Paese che è riuscito a debellare, certo con grosse perdite, con tante persone morte, con tante persone ferite, con dei segni che hanno colpito il Paese, basti pensare al sequestro e all'uccisione dell'On. Moro, ma all'omicidio degli agenti e la scorta. Però questo ha dato i fondamentali per imparare a capire come bisogna agire in via di prevenzione. Al Ministero dell'Interno noi lavoriamo per il mai, cioè noi non deve mai verificarsi un attentato, lo diciamo incrociando le dita. Che mai si verifica? Abbiamo l'esperienza del terrorismo interno, significa agire in via di prevenzione, significa fare anche squadra con chi è di un'altra religione, ma di quell'altra religione assolutamente non pratica né odio né violenza per riuscire, per integrarci anche con loro. Tutto questo, e lo dico incrociando le dita, ha aiutato questo Paese, è servito a questo Paese, perché grazie a Dio, mentre il resto d'Europa, sia con Al-Qaeda, sia con l'ISIS, è stato colpito in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Austria, in Belgio, noi fino adesso siamo stati assenti. La sua carriera si è sviluppata da Palermo a Milano. Anche in questo caso, com'è cambiata l'Italia? Il crimine segue il denaro. Milano è una delle città più ricche d'Italia, sede in una regione che è la più importante d'Italia, dove c'è uno sviluppo economico e commerciale impressionante. A cavallo del fiume d'Oro sono due terzi italiani, quindi l'andranghe da lì segue, perché non soltanto è iniziato fornendo droga e spacciando droga, ma ha capito che bisognava reinvestire, fare riciclaggio, assumere lavori sull'imprenditoria, entrare nel campo legale, in una certa maniera camuffarsi come normali imprenditori, certo ricorrendo alla minaccia, alla corruzione, ai soliti sistemi che usano gli indranghetisti. La differenza tra la mafia e l'andrangheta qual è? La mafia è stata pericolosa fino al 1993, ma l'andrangheta è certamente oggi una valutazione personale, ma condivisa da molti, è la organizzazione criminale più potente d'Italia, credo di Europa, e forse anche del mondo che ha centinaia di ramificazioni che vanno dall'Australia al Sud America. E un abruzzese in tutto questo, in una lotta a queste organizzazioni criminali, come si sente? Noi siamo forti e gentili, ecco io ho fatto il mio dovere, io sono per il low profile, sono stato parte di un segmento che ha avuto l'onore di collaborare con grandi uomini, grandi colleghi, grandi magistrati e che credo che guardandomi indietro ai miei quasi 40 anni di servizio posso dire che sono soddisfatto e ho fatto il mio dovere.